Il premio nazionale di cultura Benedetto Croce è giunto alla sua diciottesima edizione. Quest'anno hanno partecipato 43 case editrici, 46 le giurie che hanno coinvolto 2.000 ragazzi. Presente questa mattina a Pesca Sero, l'icittà natale del filosofo, anche il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Oggi ho ricordato la figura di Benedetto Croce, ma anche il suo legame particolare con il filosofo. Io ho sempre ammirato la personalità di Croce, che non soltanto è stato uno dei più importanti filosofi italiani del Novecento, un uomo che ha avuto grandi capacità intellettuali, che ha scritto pagine importanti della filosofia, ma è stato anche un intellettuale a tutto tondo, una figura poliedica, che aveva una grande curiosità e che stimolava puntualmente la sua curiosità intellettuale. Legato a questa terra, le ha legato al Mezzogiorno d'Italia, alla mia Napoli dove ha vissuto, e quindi un personaggio che noi dobbiamo rivalutare soprattutto agli occhi delle giovani generazioni. La scelta finale è stata fatta da una giuria presieduta da Dasha Maraini. È diventato il presidente di giuria il punto di riferimento del premio Benedetto Croce, ma esiste un fil rouge che lega queste opere vincitrici? Sì, il fil rouge è l'interesse per dei temi più sentiti, più attuali, perché c'è quello sulla scienza, il rapporto degli esseri umani con la scienza, che cambia nel tempo, e il perché di questo cambiamento, che è il libro di Pedemonte, poi c'è il libro dell'Arizzo sui piccoli paesi abbandonati, grandi temi di attualità, e poi c'è il libro di narrativa sui bambini che sono sopravvissuti alla Shoah e che sono stati raccolti le loro storie, che devo dire sono commoventi, molto belli. Pasquale D'Alberto, coordinatore del premio nazionale Benedetto Croce, ha voluto ricordare anche il premio alla memoria che quest'anno è stato conferito a Eugenio Scalfari, scrittore politico italiano scomparso circa un anno fa e considerato uno dei più grandi giornalisti del XX secolo, legato alla storia del settimanale L'Espresso al quotidiano La Repubblica. Grazie.